Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Nella puntata di Uomini e Donne, lì ieri, lunedì 2 dicembre, Alessio Pecorelli e Mario Cusitori abbandonano il programma, anche se per motivi diversi. Il troniste è stato filmato mentre partecipava a una serata in discoteca, comportamento vietato dal programma. Inoltre si sospetta che Alessio possa avere una relazione con una ragazza al di fuori di Uomini e Donne. A invitarla a uscire dagli studi la conduttrice Maria, che l'uomonisce. Non ha voglia di inferire sul ragazzo giovane, non mi provocare. Meno chiare sono le ragioni che abbiano spinto Mario ad allontanarsi, probabilmente per solidarietà con il tronista con cui era stato visto proprio in discoteca. Avete visto la puntata? Scrivetemelo giù nei commenti. Grazie a tutti.